La tendenza che c'è attraverso i media, attraverso i social è quella di raccontare le emozioni o di vivere tutto sull'emozione e questo mi sembra un aspetto estremamente pericoloso perché crea un andare indietro, un cercare di bloccare il tutto sull'emotività, sul momento quando poi c'è da costruire giorno dopo giorno, nel caso della famiglia, un rapporto che prima di tutto è di coppia e va costruito quotidianamente, giorno dopo giorno, quindi non si può presentare l'amore in questa forma così eterea così poco reale. Le emozioni sono importanti, forse noi viviamo questa cosa e questa grande attenzione alle emozioni per controcanto a un'epoca in cui invece queste non venivano quasi mai poco considerate o a un certo punto quasi viste male. Le emozioni sono una cosa grande, bella, sono ciò che ci muovono a grandi decisioni, avere una vita appassionata è ciò che posso augurare a ognuno però riconosciamo che in realtà l'esito di una vita buona è quello prodotto da una vita sapiente che cioè è capace di mettere insieme le emozioni e le passioni con una volontà che si struttura, con delle decisioni, anche con la capacità di sapere riprendere e ripartire dopo le fatiche. L'immagine che la Bibbia ci consegna dell'uomo sapiente, appunto cioè dell'uomo che sa fare unità di tutta la sua esperienza in tutte le sue diverse dimensioni, credo che sia quella da recuperare. Da questo punto di vista purtroppo vedo tanta rigidità perché una volta, ecco, parliamo un po' del passato, sì, ma l'aspetto un attimino positivo, no? Nelle famiglie quando qualcosa non andava non si sbatteva la porta e se ne andava via uno diceva beh basta separiamoci, no? Adesso anche per una minima, per un minimo problema, per una cosa anche banale ci si lascia, cioè questo non è un modo per costruire. Non è un modo per costruire, certo, questa cosa capita spesso, naturalmente non sempre, ma spesso perché queste due persone sono lasciate sole e non hanno più gli spazi per trovare un punto di vista esterno, un territorio comune dove ritrovarsi. Oggi come oggi io credo che se c'è un'urgenza è proprio quella del non lasciare le coppie, soprattutto magari le coppie o quelle giovani o quelli in alcuni passaggi decisivi della vicenda familiare, non lasciare le coppie sole. Quando la coppia è accompagnata, quando ci sono due amici seri, capaci anche di sedersi e dire ragazzi qui c'è qualcosa che non va, se non ci sono magari delle coppie più mature che accompagnano coppie più giovani, anche un prete che ogni tanto fa da accompagnatori. È nella trama delle relazioni che si salvano anche i disastri. Una coppia lasciata sola nella sua fatica, oggi come oggi, scoppia.